Con l'ultimo aggiornamento i produttori della Kefir hanno cambiato un'abilità da Issa, cioè il canto, lei ora lo riesce a fare in qualsiasi momento, quindi la strategia che io ho applicato per ucciderla 26 volte non è più efficace, ne ho provato un'altra. Prima io mettevo 20 trappole una di fila all'altra, col pugnale avvenerato me la tiravo giù, ma appunto hanno cambiato la skill, ora invece posizionerò gruppi di trappole per gestire meglio i scheletri, i fantasmi e Issa che mi insegue. Grazie a tutti. 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 Dopo aver spezzato le trappole, siamo pronti per attaccarle. Le migliori almi da usare contro di lei sono il mazzapicchio e la daga avvelenata. Usate la skill per far fuggire visitatore notturno solo in combattimento. Quando scappate basta anche la spada di fuoco o la torcia. La issa non piove mai. In questo momento sto cercando di far cambiare direzione a issa perché mi è più utile per come ho disposto io le trappole. Grazie. 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 Per uccidere issa bastano 15 trappole 3 quarti di marcio a picchio e 60 stufate di bacche I pipistrelli non sono da sottovalutare, quando voi entrata nella mappa, nel tempo di caricamento, loro hanno la possibilità comunque di attaccarvi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.